Il viaggio di questa sera è nella memoria di un fatto storico realmente accaduto nel dopoguerra che è l'esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati, che all'indomani del Trattato di Pace del 10 febbraio del 1947 furono costretti a lasciare la propria terra, poiché si instaurò in Jugoslavia, in quella che poi diventò la Jugoslavia, un regime di stampo comunista, violento, autoritario, quello del maresciallo Tito. L'esodo durò circa dieci anni, ci fu anche una piccola percentuale di persone che decisero di rimanere in quelle terre, ma la storia è incentrata soprattutto sugli esuli, cioè sulle persone che poi con grande fatica, con grande umiltà e coraggio decisero di ricostruire una vita intera qui nella loro patria, dall'altra parte dell'Adriatico. Vivi, odi, balla, quindi vivi e accorgerci forse che la vita è un dono, è un regalo, di conseguenza odi, odi, ascolta immagino, ascolta, quindi l'ascolto, l'attenzione, essere attenti, non lasciarsi sfuggire la poesia, visto che parliamo di D'Annunzio, e la poesia è l'arte più sublime. Balla e vivi in qualche modo nella danza cosmica, nella danza dell'universo, quindi essere armoniosi, non essere nebulosi, come diceva San Francesco d'Assisi.